Ma ve lo ricordate Takayuki Morimoto? Estate 2006 Il Catani è appena tornato in Serie A e acquista un 18enne sconosciuto proveniente dal Giappone Il suo nome è Takayuki Morimoto In realtà in Giappone è abbastanza conosciuto essendo il marcatore più giovane della storia della J-League È il minuto 84 Morimoto esordisce contro l'Atalanta che sta vincendo 1-0 E 4 minuti dopo segna il suo primo gol in Serie A Che si rivelerà decisivo per la lotta alla salvezza L'anno dopo Morimoto segna addirittura il gol che consegna una storica semifinale di Coppa Italia al Catania Ma alla stagione 2008-2009, quella della consagrazione Morimoto realizza 7 gol in 23 presenze che gli valgono il soprannome di Ronaldo del Sollevante In Italia rimarrà per altri 4 anni per poi tornare a giocare a casa sua in Giappone Ma a Catania intanto nessuno l'ha dimenticato E nessuno lo dimenticherà mai